Salve amici del Centro Medio Italiano. Tempo più stabile in Italia, ma alcune zone vedranno ancora piogge temporali. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per venerdì 24 maggio. Nubi sparse e schiarite con tempo asciutto e possibili piogge su Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio tempo instabile sulle regioni settentrionali con acquazzoni e temporali sparsi e più asciutto altrove con ampie schiarite al sud. In serata è notata ancora fenomeni a nord-ovest, locali piogge in arrivo anche sulla Sardegna e variabilità asciutte altrove. Temperature minime in lieve calo al centro nord e rialzo al sud, massime in generale aumento ovunque. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano.